Senti, tesoro, vediamo un po'. Tutto quello che dovevi fare l'hai fatto? Eh? Le mani le hai levate? Il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute lo hai evitato? Bocca e naso, se sta all'uticio tossicili, hai coperti? Occhi, naso e bocca con le mani hai evitato di toccarli? Ti sei estenuta da prendere farmaci antivirali e antibiotici? Hai pulito le mani con superficie disinfettanti a base di cloro e alcol? Perfetto. A proposito, la mucchina dove l'hai presa, da Luciano o da Gino?